sapete quello che succede oggi prima del green pass nei locali pubblici fanno finta di entrare con tutti i controlli all'una di notte feste da ballo ragazzi senza mascherine uno sull'altro nella movida nessun controllo ragazzi che si passano le bottiglie di birra uno con l'altro a volte io mi meraviglio non del livello di contagio che è cresciuto ma mi meraviglio il fatto che sia cresciuto in maniera così limitata per quello che è successo già in queste settimane e ripeto qui abbiamo mantenuto l'obbligo della mascherina perlomeno ma vi lascio immaginare quello che sta succedendo di notte e nelle aree della movida in tutta italia green pass non si tratta di togliere nulla a nessuno si tratta semplicemente di dare servizi in più a chi dimostra di essere responsabile tutto qui per quello che ci riguarda in campania siamo partiti con la green pass con la carta di certificazione già da quattro mesi che per quello che riguarda la campania avranno lo stesso valore che ha la green card nazionale la carta di avvenuta vaccinazione della campania ha valore per partecipare alle attività pubbliche agli eventi pubblici per i quali è possibile avere la partecipazione sulla base delle decisioni nazionali allora invito gli amministratori pubblici ad essere prudenti a eliminare ogni evento pubblico che determina assembramenti che sono incontrollabili e incontrollati grazie a tutti